Ma direi che è il Golden Year quest'anno, no? 2019, l'Olimpia di Milano-Cortina, il Prosecco patrimonio d'umanità, entriamo nel gota dei grandi siti, penso alla grande muraglia cinese, le cascate di Guazù, il Kilimanjaro, ma poi ovviamente l'ultimo sforzo lo faremo per l'autonomia. L'autonomia chiude il trittico e direi che con quest'anno si potrebbe chiudere la grande.